Al circolo sociale di Pinerolo si sono svolte il 28 luglio la presentazione del piano e la firma dell'accordo per la costituzione di Terre da Tastè, il distretto del cibo pinerolese, con il comune di Pinerolo come capofila, quello di Caur fra i promotori, insieme alla città metropolitana di Torino, ad altri 13 comuni, alla diocese di Pinerolo e alla diaconia valdese. Per la città metropolitana di Torino ha siglato l'accordo costitutivo del distretto la consigliera delegata alle attività produttive, allo sviluppo economico e al turismo, Sonia Cambursano. L'idea di città metropolitana è quella di stare accanto ai territori per il loro sviluppo e la loro crescita e quindi in questo senso noi promuoviamo questo distretto e vorremmo che fosse una sorta di pilota per la creazione in altri territori della nostra città metropolitana di realtà analoghe. Non parliamo solo di promozione dei prodotti agricoli, delle filiere, perché ci sono alcune sfide, prima fra tutto il cambiamento climatico che vanno giocate, che vanno colte. Sì, direi che la transizione ecologica non è un'opzione, ormai è una necessità data soprattutto dalle mutate condizioni climatiche e le aziende agricole non vanno lasciate sole nell'affrontare queste sfide che sono assolutamente inedite e molto più grandi di loro. Quello che è importante secondo me è che questo distretto del cibo non diventi soltanto la mera promozione dal punto di vista del marketing o pubblicitaria di un prodotto specifico e quindi di un purpurì diciamo così di prodotti, ma io quello che auspico e spero è che questo percorso porti ad elaborare delle strategie finalizzate a dare delle risposte a delle aziende. L'esperienza di Cavour come potrà andare a vantaggio degli altri comuni del distretto? Potrà andare avanti grazie soprattutto alle nostre aziende perché Cavour è veramente una commistione delle tre filiere che caratterizzeranno il distretto, uno ovviamente è l'ortofrutta, l'altro è l'allevamento e l'altro è la cereali coltura. Quindi in realtà forse è nato lì proprio per questo motivo perché c'erano delle esigenze tra di loro che si integravano. Per la città di Pinerolo con il distretto che cosa può cambiare soprattutto nel rapporto fra i consumatori e i produttori di questo territorio? Ma noi in effetti da questo punto di vista ci qualifichiamo sicuramente sulla parte di produzione ma in particolare poi sulla parte di incontro proprio produttore e consumatore, in particolare nei nostri mercati. Come è stato detto anche dal sindaco il mercato di Pinerolo è il terzo del Piemonte fuori ovviamente dalla città di Torino e abbiamo una parte di mercato esattamente dedicata alla produzione agricola del territorio.